Avrebbero trasformato il proprio appartamento in una casa di riposo all'interno della quale gli anziani ospiti sarebbero stati maltrattati. Con queste accuse gli uomini della Guardia di Finanza di Trapani hanno arrestato una coppia di coniugi. La struttura, che insista nel territorio di Nubia, piccola frazione alle porte di Paceco, abusiva e priva di qualsiasi abilitazione comunale e sanitaria, è stata posta sotto sequestro. Le indagini hanno permesso, anche grazie all'ausilio di intercettazioni ambientali, di accertare che i due coniugi, pur percependo in nero circa 1000 euro al mese per ogni assistito, maltrattavano sistematicamente gli anziani ospiti con continue violenze di natura verbale, fisica e psicologica, ed anche somministrando loro medicinali senza alcun controllo medico, al solo scopo di sedarli, soprattutto per le ore notturne. I due sono indagati per lesioni aggravate, maltrattamenti e abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria. Nei confronti degli indagati, inoltre, sono state avviate approfondite investigazioni finalizzate a ricostruire e sottoporre a tassazione i proventi illeciti dagli stessi indebitamente conseguiti.